Quando si addensa è pronta! Ah, buonissima! La cioccolata calda! Quando fa freddo questa è ottima! Ciao da Valsud! Oggi prepariamo... La cioccolata calda! Ci serviranno 40 grammi di cacao amaro, 60 grammi di zucchero, 20 grammi di farina 00, 500 ml di latte. In un pentolino mettiamo il cacao amaro. Lo zucchero, la farina 00. Mescoliamo! Abbiamo mescolato bene le polveri. Versiamo il latte un po' alla volta e mescoliamo. Abbiamo mescolato per bene senza far formare i grumi. trasferiamo sul fornello a fiamma moderata e mescoliamo continuamente. Quando si addensa è pronta! Decoriamo con cannella, panna, noce moscata. Ma che bontà! Ed è pronta! Ed è pronta! E adesso la provo a saggio! La mia con la panna! A me cannella! Buonissima! Che buona! Ci sta veramente questo freddo! Grazie a tutti.